no dai non potete capire cosa ho trovato cosa ho trovato spero sia ufficiale spero sia ufficiale ops peter brown in live action top ragazzi non vedo l'ora di farlo subito no si è bloccato ancora dai wow ragazzi ragazzi che non voleva crescere bellissimo peter pan non ci credo non ci credo non ho parole ragazzi è già finito è già finito è già finito c'è un altro c'è un altro ho trovato un altro ho trovato un altro ecco sei tu sei tu peter pan wow cappi lavori di disney stanno ritornando tutti eh tutti stanno ritornando uno dopo l'altro tu sei nana nana sì me la ricordo nana vendi tu sei wendy eccoci Peter Pan 100% eccoci 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 dai fatti vedere Peter Pan eccoci 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 solo la solo la solo la bellissimo eccoci tu sei Peter Pan ragazzi no ragazzi ho visto una cosa dovresti vedere oh ma basta ma basta ma ma tu cosa sei sei ah forse ho capito sono Peter Pan ho capito sono gli attori sono gli attori che intervigono i miei personaggi questi sono gli attori che intervigono i miei personaggi tanto l'ora e non te lo so guardi si ho capito interessante tu sei Pilli Pilli la papina che avrebbe dato per Peter Pan avrebbe dato che poi ho capito che Pilli è un mafia ma avrebbe dato anche la vita del Peter Pan avrebbe dato capitano in silo capitano in silo che sei? spugna spugna mia che terzo maggi tu sei? e tu non mi ricordi non mi ricordi che chi sei? Peter Pan eccola qui ragazzi il ragazzo che non voleva crescere 2021 voglia mamma mia quanto è lontano siamo quasi al 2020 e niente ragazzi spero che vi sia piaciuto spero che comunque sia non siano dei tre dei fake che ha trovato sarebbe molto triste speriamo speriamo sia la realtà niente io vi saluto e vi ringrazio per la visione un servizio di materiale ciao ragazzi ciao ciao